Sai ballare? Sai cantare? Sai recitare? O vuoi solo imparare a farlo? Partecipa subito ai nostri provini. Avrai la possibilità di accedere ai nostri corsi ed entrare a far parte del cast artistico di Funky Therapy. Chiama l'Accademia Internazionale del Musical al numero verde 800-913575 o visita il nostro sito internet www.aidmusical.it